C'è un'inchiesta sul caso di un neonato partorito al Moscati di Avellino e deceduto all'ospedale San Pio di Benevento. La denuncia è stata presentata ai carabinieri dai genitori della piccola vittima. La madre, una 42enne di Nola, è ancora ricoverata presso il reparto di ginecologia ostetricia del nostro comio avellinese. Il bambino nato domenica mattina al Moscati, dopo un parto naturale, è stato trasferito all'ospedale di Benevento, sembra per l'insorgere di problemi respiratori. Lunedì il neonato è deceduto, provocando la torce dolore della madre al suo primo figlio. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno acquisito la cartella al Moscati. È in corso un'indagine per verificare eventuali imperizie commesse dai medici.